L'anno sulla terra passa sempre nel solito modo. Ci sono cose belle e cose brutte, guerre e bambini che nascono. Ci sono giorni di pioggia e meravigliose giornate illuminate da un sole splendente. Poi un giorno molto speciale, secondo la tradizione, succede che una grande calma cade sulla terra e comincia a nevicare. È la notte di Natale, la notte in cui Babbo Natale porta i regali a tutti i bambini del mondo. Ma i bambini più fortunati di tutti sono quelli italiani. Perché se sono stati buoni, nella notte dell'Epifania ricevono degli altri regali. Musica Ci stiamo preparando a riportare alla chiesa di San Pietro le statue di San Giuseppe e della Madonna che sono state portate qui il 24 dopo la novena. Oggi, giorno dell'Epifania, tornano, diciamo così, a casa loro con Gesù Bambino che ha in braccio San Giuseppe. Musica 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 They were searching to find Jesus in the night When they saw me little star at night rising They saw streams of love come flashing from my life So I led them on through darkness to behold the newborn King Then I stopped over the place where Jesus lay With the gift of my small life, the magi became filled with joy They found Mary with her child and bought in pairs They found Mary with her child and bought in pairs They found Mary with her child and bought in pairs They found Mary with her child and bought in pairs They found Mary with her child and bought in pairs Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.